Buon pomeriggio, bentornati su Corsia 4, siamo in compagnia di Matteo Giunta, allenatore di Federica Pellegrini e Filippo Magnini. Ciao Matteo e benvenuto su Corsia 4. Ciao a tutti. Allora, rapidamente, Federica in questi campionati assoluti è andata benissimo. Questo tempo nei 100 stile è venuto così all'improvviso, in preparazione dei 200 o comunque in qualche modo è stato cercato anche questo finale sui 100 stile? Sicuramente uno degli obiettivi di quest'anno era quello di poter velocizzare i 100 metri sempre in funzione della gara principale che è il 200. Quindi un tempo che va al di là di quelle che erano le aspettative e che però dà sicuramente fiducia, sempre in riferimento alla gara che ci interessa di più che sono i 200. Tempo fa abbiamo avuto ospite nel nostro podcast Mike Maric che fa parte del vostro staff di allenamento per Federica e per Filippo. Come funziona la sinergia in questo gruppo, soprattutto con il lavoro che poi tocca a te? Quindi il lavoro di Mike è quello di allenare l'apnea, poi passa la palla a te sulla parte tecnica. Quindi come riuscite poi a rimettere tutto insieme? Diciamo che la parte di apnea di subacquea è una parte fondamentale, abbiamo visto che molti atleti d'oltreoceano in questo fondamentale sono molto forti e quindi ho chiesto aiuto a Mike per poter sviluppare e migliorare questo fattore che è determinante. Per quanto riguarda Filippo, i suoi obiettivi su Londra, sul Rio, insomma lui la sua strada comunque la sta facendo dimostrando ogni giorno comunque sia il valore del notatore che è e che è stato. Sinceramente pensavamo e volevamo essere qua a Riccione in una condizione decisamente migliore, soprattutto sui 100 metri. I risultati che sono arrivati in questa settimana non ci hanno soddisfatto. Adesso vediamo in previsione degli europei di cercare di preparare questa gara e trovare sensazioni migliori. Sicuramente in previsione di Rio l'obiettivo principale è la 4% stile libero che è arrivata a Kazan nel scorso campionato del mondo a podio. vorremmo poter ripetere questo grandissimo risultato. Sappiamo che è molto difficile e tutto dipenderà anche dalla condizione di Filippo in quel momento. Ti ringraziamo, ti facciamo il nostro augurio di buon lavoro e in bocca al lupo per tutti i ragazzi che ti alleni. Benvenuto e grazie di essere stato su Corsia 4. Crepi il lupo, grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao.